Sicuramente degli auguri che devono andare nella direzione di un anno positivo per i cittadini di questa regione, quindi l'augurio è quello di poter trovare risposte ai cittadini dell'area del terremoto, di poter trovare anche nei provvedimenti assunti e nella certezza di risorse finanziarie la fiducia per poter iniziare la ricostruzione delle abitazioni e delle imprese. Ai cittadini dell'Umbria, in modo particolare a quelli che non hanno un lavoro, l'augurio che a fronte di imprese più robuste e più competitive ci siano nuove occasioni di lavoro. E poi gli auguri di un 2017 positivo per tutti noi. L'Umbria ha tanti elementi di forza che se utilizzati al meglio possono diventare occasioni positive per i cittadini di questa regione. Per l'ultimo dell'anno mette qualcosa di rosso.